Quasi 300.000 euro di mazzette provenienti dalla Lombardia per essere ripuliti in Sicilia, trasportati e intercettati dalla Guardia di Finanza in autostrada all'interno di un bagagliaio. 11 arresti ha prodotto questa mattina un'operazione della Didia di Milano che ha scoperto un'organizzazione incentrata su tangenti e riciclaggio per l'attivazione di diversi padiglioni e del Palazzo dei Congressi all'Expo tenutosi l'anno scorso nella capitale meneghina. La famiglia mafiosa di Pietra Persia, recentemente decapitata dall'operazione Primavera dei Carabinieri, aveva appuntato proprio la fiera internazionale per accrescere il proprio patrimonio. A procacciare l'appalto per i padiglioni a nome del clan ennese sarebbe stato Libero Pace, amministratore del Consorzio di Cooperative Dominus, che avrebbe poi consegnato il ricavato al principe del Foronisseno Danilo Tipo, attuale difensore nel processo per la strage di Capaci ed ex presidente della Camera Penale, consigliere e assessore al comune di Caltanissetta. Il autobottino sarebbe stato trasportato in auto verso la Sicilia in 25 buste di plastica dentro un sacco nero dello stesso avvocato a bordo di una Fiat 500, mentre una cifra addirittura doppia sarebbe stata nascosta e portata sull'isola dentro una piscina gonfiabile. Tra gli arrestati, anche l'amministratore delegato della Dominus, il Nisseno, Giuseppe Anastasi, le Fiamme Gialle hanno anche eseguito un sequestro preventivo da circa 5 milioni di euro nei confronti delle società del Consorzio, il cui obiettivo nell'operazione era quello di emettere false fatturazioni per creare il fondo nero da cui il clan avrebbe poi attinto dopo il pagamento di mazzette. Grazie a tutti.